salve a tutti nuovo video video della faccia del giorno la domanda che può nascere adesso spontanea è di solito tutti occupi di tutt'altro quindi come mai questo questo tipo di video è in realtà ho registrato un altro video che però metterò online dopo di questo e dove spiego più o meno nei motivi non vorrei che mi stessi muovendo troppo e che quindi la fotocamera ballasse comunque io che avendo l'appoggiato in una posizione precaria probabilmente muovendomi troppo gesticolando troppo creo anche un poco di maremoto quindi scusatemi e il motivo per il quale faccio qualche video di diverso tipo rispetto a quelli che genericamente faccio quindi quelli dedicati all'hobby e la tessitura delle perline aspettate un attimo perché mi sa che è troppo precaria quindi dicevo il motivo principale per cui appunto sto facendo dei video di questo tipo quindi diversi è dovuto al fatto che un hobby come quello che ho fino adesso condiviso qui sul web quindi su youtube in particolare lo per motivi diversi di diversa natura che però non sono necessariamente gravi un po abbandonato in realtà lavoro ancora con le perline una grandissima passione quindi comunque tutorial e dedicati ce ne saranno però vorrei appunto un po variare a quanto meno per non lasciare decadere del tutto il canale perché magari potrei fare video dedicati alla tessitura delle perline o comunque alla creazione di bijou artigianali 1 2 volte l'anno o 3 e mi sembra comunque un peccato perché in ogni caso ci sono tanti interessi che io curo che mi piace insomma fare quindi perché non parlarne anche all'interno del canale quindi sarà un qualcosa di piuttosto random nel senso che magari se mi gira potrò parlare di libri piuttosto che in questo caso di faccia del giorno quindi di beauty oppure review di prodotti finiti come infatti ho già effettuato ed ho fatto in particolare non avendo nessuna dimestichezza in questo senso e volendo essere il mio intento soltanto quello di condividere delle esperienze su determinati prodotti cosmetici non ho nemmeno una professionalità tale che e mi ha permesso di strutturare un discorso piuttosto organico piuttosto completo in alcuni parti mi confondo in alcuni parti dico cose che non sono assolutamente corrette e quindi dovrò magari correggere perché mi rendo conto i primi capisco che essendo il primo video era abbastanza impacciata non che adesso io sia tranquilla perché non sono abituata quindi mi viene mi viene strano è un divertimento alla fine dei conti e quindi così lo prendo perché nessuno mi obbliga a farli devo soltanto capire meglio come come procedere e comunque organizzarmi e magari un discorso un po più ragionato il video infatti che ho fatto e che ancora dovrete vedere è stato un po improvvisato come lo è tutto sommato anche questo solo che questo sapevo più cosa dire quanto meno e quindi presa un po così dalle enfasi dall'entusiasmo perché poi è quello no il divertimento di fare un video ho detto cose che comunque in alcuni punti sono abbastanza non corretta ecco non sono molto chiara quindi magari correggerò all'interno di questo video adesso vi chiedo già da adesso scusa nel senso che comunque appunto non avendo fatto bene per bene il video potrebbe potrebbe darsi che io possa creare un po di confusione comunque speriamo bene tanto alla fine dei conti deve essere un divertimento quindi prendiamola così prendiamola in maniera abbastanza leggera la faccia del giorno perché perché oggi fa un caldo innaturale cioè sono le quasi le 4 del pomeriggio ci sono 30 gradi fuori tra poco un convegno formativo e quindi il tempo di registrare questo video il convegno non è lontano da qui da dove sono io e poi andrò a questa a questa cosa a presenziare questo convegno seminario e niente quindi ho voluto mettere questa magliettina che ha dei richiami arancioni e quindi ho messo anche una tinta labbra parto dalla tinta labbra perché così mi va della cuba è questo qui il colore non me lo ricordo perché tra l'altro non c'è scritto e non riesco a rintracciare da nessuna parte lo scovolino è così è molto obbligo tagliato molto obbligo rispetto a quelle alle altre tinte matte che ho e quindi mi permette di essere piuttosto precisa però non è non so dirvi sia lunga tenuta qua non c'è scritto ma è solo l'involucro probabilmente nella scatolina che ho buttato ci sarà scritto se è a lunga tenuta ma non è no transfer no transfer io di solito abbino nella parola matt hanno transfer non so perché non è detto assolutamente e per essendomi abituata con le vinte della sephora che sono micidiali quindi hanno proprio una durata è piuttosto lunga testata anche e anche no transfer non so trattavo questo questo rossetto i primi tempi rispetto a quando l'ho comprato così allo stesso modo è invece assolutamente non lo è e quindi devo stare attenta perché sbava parecchio essendo un colore molto brillante tra l'altro è proprio molto facile cadere nell'errore di toccarsi o comunque di bere qualcosa e poi bere qualcosa su dai bevi e poi lasciare delle tracce in giro quindi bisogna stare attenti in questo senso siccome oggi devo semplicemente stare zitta e guardare la persona che farà la relazione si suppone che questo rossetto rimanga intatto il più possibile comunque sempre bene portare uno specchietto tanto per essere tranquilli come base iniziamo allora dalla base ho usato questo oltre la crema in trattante che poi lasciato asciugare ho utilizzato questo siero della gico glowing potion è un siero perfezionante diciamo chiaro molto molto e in sostanza dovrebbe essere trasparente solo che non so se si riesce a vedere in video e questa è la luce migliore che riesco ad avere perché la stanza più luminosa che ho e andando è un po per iridescente non è proprio per le scelte una a una leggera iridescenza va e quindi poi una volta steso ed applicato non si vede nulla si asciuga subito a un buon profumo e non vi lascia nemmeno pagliuzze non non ha ecco questa questa funzione almeno così visibilmente però appena esce fuori dalla costruzione e questo siero appunto a questa per le scienze che all'inizio mi ha un po' così spaventato semplicemente perché non volevo un effetto un effetto troppo glowy lo sto utilizzando però va utilizzato con calma con poca poca quantità per volta altrimenti si combina male col tipo di crema che utilizzate con la vecchia crema che avevo già la crema vecchia di cui ve ne parlo nel video successivo a questo che ho già registrato e faceva delle delle palline dei grumetti con questo la situazione risaltava ancora peggio nel senso che non si combinava bene e quindi si staccava addirittura anche lo stesso siero e non era bellissima la faccenda da gestire assieme a questo utilizzato la bb cream questa è collaborazione e max factor in collaborazione con olas o il contrario non vi saprei dire non so quante colorazioni ci sono in giro di questa bb cream io è la prima volta che l'ho vista in profumeria era in promozione quindi loro l'ho presa così proprio dal fatto che ho dei problemi col fondo tinta soprattutto adesso che arriva la buona stagione difficilmente io utilizzo dei fondotinta in polvere quindi mi sono basata su questa qui la bb cream colorazione light ha uno spf 15 è molto leggera io sono sempre molto contraria alle bb cream perché facendone tre per ogni tre colore per ogni tipo quella light quella chiara comunque con per il mio incarnato è sempre un po più scura e quindi sono sempre molto resti a prenderne perché l'effetto leggero abbronzato ce l'ho e non mi piace un effetto finto che preferisco non avere e invece con questa bb cream ma piuttosto chiaro già di suo posso anche provare a far vedere come il colore Questo quindi tutto sommato non è molto diverso da quello della mia mano ecco con questa mi sono trovata piuttosto bene perché non non copre molto e infatti è una bb cream ma mi sta bene tutto questo anche perché non ho molte ma taglie da coprire e questo praticamente il colore si sfuma molto bene e si asciuga anche piuttosto bene quindi non ho avuto ecco particolari problemi però è da pochissimo per la sua utilizzando quindi ancora proprio bagliare una 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 buona riuscita di questo prodotto non sarei in grado perché appunto la storia realizzando da poco ha un buonissimo profumo lo stesso identico profumo di questo contorno occhi illuminante che ho utilizzato nella zona al di sotto degli occhi appunto per dare un tocco di luce dice ma stai già utilizzando un siero illuminante una bb cream che comunque non copre però un po illumina più quanta luce vuoi semplicemente la mia pelle è un po più spenta in questo periodo ma perché ho fatto piscina dopo una piscina Un periodo insomma di piscina che cosa succede che non solo la pelle mi tiro un po ma anche perde colore diventa un po più anemica me ne rendo conto perché è una cosa proprio sistematica e ci saranno anche a vari fattori no che contribuiscono al colorito della pelle della mia pelle è un periodo anche Magari di cambio stagione quindi anche cambio proprio ormonale insomma è una sensazione che o è quella di una pelle spenta ed opaca e quindi un necessario o la necessità di renderla un po più luminosa Tutto sommato da quando di questi prodotti lo vedete non è che mi fa brillare di chissà quale luce impropria quindi l'aspetto è solo un po più luminoso senza essere troppo Finto o artefatto addirittura quindi ho utilizzato questo e Comunque la bb cream e il contorno occhi da solo da soli non sono sufficienti a coprire alcune piccole macchie ma proprio leggere che avevo di brufoli passati e quindi le cicatrici a non le copre o comunque piccoli lievi rossori non li coprirebbe questi Nella bb cream e nella il contorno e la la comba appunto non funziona in questo senso per me va bene perché comunque non ho tanti rossori imperfezioni Fortunatamente non ho molte cose da coprire però è da sole e bene sapere che non bastano non sono sufficienti invece avevo appunto delle macchioline di Brufoli passati e per coprirli meglio ho messo una punta di questo fondotinta in stick sempre della max factor E il pan stick è vecchio adesso ha anche la make up forever ha fatto dei fondotinta in stick se non vi sbaglio proprio simile come packaging anche a questo E però questo ce l'ho da pari da parecchio tempo è molto cremoso e non avrei mai detto io di solito quando sento parlare di fondotinta in stick Mi viene sempre in testa Like il contro cioè quello di un prodotto molto secco molto duro da lavorare invece questo è veramente molto morbido Indipendentemente dal fatto che faccia caldo lo è anche d'inverno quindi riesco a lavorarlo piuttosto bene e questo lo utilizzo sempre come correttore un po più strong perché Ripetisco le mie necessità le mie esigenze non sono quelle di coprire tutto in maniera massiccia non avendo particolari Imperfezioni appunto da nascondere e questa è la base che ho fissato tutto con questa cipria un altro tocco di luce In questa radiant fusion della kiko La colorazione è la più chiara numero uno è molto molto chiara E' leggermente leggermente satinata ma veramente una cosa impercettibile infatti applicata qui nemmeno si nota E non ne metto tanto poi con un pennello un po più ampio e che mi permette appunto una diffusione un po più ampia Non si nota nemmeno così tanto ne metto poco qua con questo pennellone grande anche sul naso mentre con uno più sfitto la vado a Impressare bene in questa zona qui questa zona non mi si lucida tanto però Può essere che col caldo per esempio questo è un trucco che ho fatto stamattina sono le 4 di pomeriggio E l'ho rinfrescato l'ho dovuto comunque rinfrescare con giusto con il mascara non l'ho ritoccato infatti i bordi sono piuttosto Sfumati ma non per la maestria mia ma perché sono un poco sfumati proprio andati e non ho messo primer perché stamattina non avevo intenzione di truccarmi così Forte e poi comunque sono andata avanti col trucco è andata in questo modo e con il primer mi avrebbe reso di più questo trucco Comunque ce l'ho appunto dalle sette e mezza otto di questa mattina E ovviamente ho riapplicato il rossetto perché il rossetto non dura più di due ore almeno su di mezza e Poi ho messo questa che è la terra come per fare leggero contouring qua al di sotto delle guance La terra è questa qua di puro bio la 0 1 Un colore che se vediamo dalla dalla gialla è piuttosto scuro è un marrone freddo Questo è il colore applicato sul dito e questo è il colore applicato sulla mano non si vede praticamente per niente Davvero lascio un'ombra un'ombreggiatura molto leggera in telecamera e sul viso si vede molto Ma in realtà veramente dal vivo non è così colorata è una terra molto leggera Tra l'altro la sto utilizzando da quando l'ho comprata e non conosce fine cioè si si vede che quel Rispetto alla texture nuova che c'era qui qui è più utilizzata però Non è che è caduta no? Si è rotta Allora questo accaduto il Lo specchio ok lei non si è rotta Tragedia no non si è rotta si è caduto lo specchio No Vabbè devo attaccare lo specchio E vabbè ci doveva essere anche questo inconveniente Comunque ribadisco non Non conosce fine cioè la texture è molto molto leggera quindi Riesco ad utilizzarle anche a stratificarla senza però Lo farò un effetto troppo finto troppo mascherone quindi con questa mi trovo bene a un buon profumo di albicocca E tuttora ce l'ha Perché appunto a degli strati del bicocca se non mi sbaglio Quindi mi piace mi piace molto però indipendentemente dal fatto che un prodotto bio quindi non non sono Votato al dio mi è piaciuta e l'ho presa Poi sugli occhi Sugli occhi ho fatto un mix di colori utilizzando la flawless della make up revolution Completamente mangiata l'ha scritta presa a luglio di quest'anno Ecco questi sono i colori Più o meno le persone che sono abbastanza Make up addicted dovrebbero conoscerla perché abbastanza Famosa e È un leggermente polverosa però con un primer gli ombretti rendono veramente tanto rendono tanto al punto che per otto ore nove ore consecutive Rimangono intatti io riparisco stamattina non ho messo primer fa pure caldo sono uscita dovrò riuscire quindi so che questo trucco Si sbiadirà un po però Devo dire la verità mi sono trovata molto bene e oltretutto ci sono anche già consumate oltretutto l'ho pagata pure poco Allora nell'angolo interno ho utilizzato un mix anzitutto di questo colore che è un rosa molto chiaro Tanta stima ma veramente tanta stima a chi riesce a fare bene gli swatch davvero perché questa è la terra Perché non è facile per niente ma perché questi sono video anche chiacchiericci un po' no non è che sono Professionali volti a farvi vedere bene le cose perché altrimenti dovrei Armare una vera e propria Un bel proprio background Con le luci davanti a me con una telecamera videocamera piuttosto Porte questo cellulare quindi veramente abbastanza caserecce l'improvvisata la situazione E inoltre ribadisco la nobile età in questo senso cerco semplicemente di condividere questa Questi interessi e questa passione che fa essere il make up e magari trovare anche un confronto con chi mi ascolta se c'è qualcuno che mi ascolta Quindi nell'altro all'interno questo colore è qui rosa leggermente scimmere Un'epoca utilizzato un mix di due colori In sostanza sono un rosa scimmere e un rosa più scuro opaco insieme fanno questa combo qui Quindi questo è quello più chiaro ma io non credo che si veda qualcosa per questo è quello più scuro Perchè un fotocamera non vedo nulla per un bene Speriamo proprio bene perché non vedo Vabbè comunque questo e poi invece nella parte esterna ho utilizzato ancora un mix tra Un'amprugna e un melanzana quindi comunque colori piuttosto più scuri Ecco qui Gli ho messi tutte e due insieme E creano questa sfumatura qui in teoria dovrebbe vedersi pure il colore più chiaro Mescolata a questo più scuro comunque la Nell'insieme questo è il questo è il trucco speriamo che si veda qualcosa Quindi questa è una palette che comunque assolutamente mi sono trovata molto bene perché la sto utilizzando da quando l'ho comprata praticamente quasi tutti i giorni E riesco a fare vari trucchi e e tra l'altro appunto Durano questi questi tipi di Di combinazioni che metto sugli occhi molto di più se utilizzassi un primer Oggi non ho usato e ma boh ci accontentiamo E infine anche se di solito si finisce con il rossetto ma vabbè tanto il rossetto è stata la prima cosa di cui ho parlato Utilizzato come mascara L'Otrager's Curl di Sephora con questo scovolino dovrebbe essere abbastanza conosciuto conoscibile noto e Quello che per quello che mi riguarda io non ho delle ciglia o delle ciglia lunghe e pesanti Non ne non sono molte quindi non riesco ad arricciarle da solo con queste con questo mascara devo sempre Utilizzare un piegaciglia tuttavia le separa bene e adesso non so che cosa si può notare Si l'ho utilizzato l'ho utilizzato anche nella nelle ciglia più bassa perché anche qui è ne ho piuttosto sono piuttosto lunghe le mie ciglia e Mi piace anche dare un aspetto un po più a zampe di ragno all'occhio e quindi con questo riesco Tranquillamente a prendere anche quelle ciglia ozza più sottili più fini che sono un po più all'interno senza creare troppi grumi Io Non lo so utilizzare non mi sa di utilizzare di mascara perché comunque mi rendo conto come facilmente Si creano grumetti mentre tante altre ragazze anche vedere dei video Di applicazione di altre ragazze riescono tranquillamente senza creare troppi Troppi problemi di grumi mi spiegate come fate se c'è qualcuno in ascolto sarà Molto molto lieta di sapere come si fa perché sinceramente io prelevo lo scovolino lo pulisco un poco perché altrimenti l'eccesso Andrebbe a rendere troppo passone il risultato finale sulle ciglia però comunque i grumi se ne fanno lo stesso e anche quando è liquido perché in generale quando è più liquido quindi quando è più nuovo un mascara e da più problemi all'applicazione si sa che quando è appena nuovo non è che la resa sia delle migliori ma quando poi Più avanti va e diventa leggermente più denso con me si passano subito questi grumi e non so come Come evitarli cioè dove sbaglio non lo so comunque questo è un buon Mascara per quello che mi riguarda mi sono trovata bene utilizzato la rimascara con questo è veramente molto intenso il L'effetto si può modificare modulare comunque cioè possono essere fatte poche passate e Comunque ottenere un effetto discreto oppure un effetto più drammatico facendo più passate devo dire che però Come l'altra giro scar volume che ho odiato Questo si asciuga con e anche l'altro ovviamente si asciuga con più lentezza A distanza di qualche di un minuto insomma ancora se io tocco con le dita mi macchio Quindi devo stare attenta in questo senso ormai ho capito i tempi di asciugatura però i primi tempi utilizzando per esempio altri mascara che si asciugavano più facilmente Andando per esempio semplicemente a capire se si è rasciugato e quindi se stava per esempio rendendo più dura la la ciglia Non mi sporcavo mentre con questo sì e tra l'altro le ciglie Non diventano durissime anzi tutto sommato sono non dico morbide però comunque sono Flessibili non sono rigide non vi da l'effetto di cemento non ve le cementifica quindi Nonostante le varie passate in questo senso qui di tutte le review più o meno che ho visto e che sono state positive Io per quello che mi riguarda nel mio piccolo le confermo perché mi sono trovata piuttosto bene e quindi questa è la faccia facciazza del giorno o anche Se se può interessare Gli accessori del giorno che sono questo paio di orecchini qui di cui c'è anche un tutorial All'interno del canale visto che l'ho voluto abbinare alla magliettina che ho sto utilizzando anche questo bracciale c'è un tutorial questo è il bracciale x o x o e ma anche se c'è una variante qui rispetto a quella del tutorial che però all'interno del tutorial troverete già segnata come variante quindi se la volete realizzare così vi dico pure come farlo E poi e poi ho queste questi anelli rose gold presi da h&m qualche tempo fa Era un trio l'altro è un anello a mezza falange che non metto perché mi cade e niente questo è quanto e spero che questi insolito questi insoliti video non vi siano sgradevoli e se no pazienza Io alla fine lo faccio per divertimento e ci vediamo alla prossima